Sì, manella. Sì, manella. Sì, manella. Never blinked. An Olympian non-blaker. Ok, then. Yeah. See you in that again? Be there, I swear. I'm sorry. Don't be. No. I just wanted to say thank you for helping all of my today and for it to me. It's okay, I'm breathing all right. You started this business all by yourself a year and a half ago. Now you have to start with 220 people. Never move, didn't I? No. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Il gruppo di H1, l'anno tutti i nostri fan, l'anno solo di M.C. Infatti, no l'anno e scena, loro hanno ancora fatto a che questo è un gruppo di M.C. E' come from M.C. Allure le persone non sono state delle mondiali. Ma voglio fare solo un gruppo di M.C. quindi la possibilità di poterare i fondamenti per quanto possibile Cascade 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 Sb Cascade Sigi Sigi No, 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 no. Sì 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 25 pesos 25 pesos 25.50 25.50 26.50 27.50 28.50 29.50 29.50 30.50 29.50 Grazie. 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti